Avere la notizia che ci ha assegnato a Cifroni un premio, un riconoscimento, quelli comuni di cicloni, quelli che più di altri vivono quotidianamente con le problematiche legate all'ambiente, alla raccolta dei rifiuti, a tutta una serie di altre cose, non può che farci piacere da una parte, però dall'altra parte noi lo facciamo senza perché ci vengono questi riconoscimenti, sta nella storia, nella genetica, come dico, di Cifron Experience, perché lavoriamo da sempre con i ragazzi e se c'è un paladino della difesa della natura, dell'ambiente che lo circonda, del nostro mondo, di come i comportamenti a volte sono più gravi quelli degli adulti che dei ragazzi, bene, quindi a Cifroni lo verifichiamo quasi sempre. Noi non promuoviamo un'azienda, ma una finiera di attività e di comportamenti, che riguardano però anche tante aziende che scelgono Cifroni per promuovere le loro tecnologie, per far dire ai ragazzi come e in che modo, con piccoli gesti quotidiani, l'acqua, la differenziata, l'imballaggio e via di seguito, possono essere utili a un intero sistema nazionale e internazionale, perfino all'umanità. Grazie agli EcoPartners che hanno scelto Cifroni proprio per questo aspetto, perché Cifroni non vive solo del grande vento di lui, ma durante l'anno ha un contatto diretto, fisico, con questi milioni di utenti o di persone fisiche. E poi la responsabilità è come sempre del sindaco, Cifroni fa questo, si differenzia anche Cifroni dagli altri per questa appunto continuità, per questo amore che ha nei riguardi dell'ambiente e della natura. Poi Cifroni è un piccolo paese, accarezzato dal verde, dalla natura, in parte incontaminato e qui si trovano un po' tutte quelle idee nuove che debbano con un gesto e possono con un gesto cambiare il mondo. Grazie Ciel e grazie ancora anche a nome di tutto lo staff e il team di Cifroni. Grazie a tutti.